La vaccinazione anti-covid ha diminuito sensibilmente i ricoveri e decessi, ma nelle persone a rischio e oltre i 65 anni è preferibile ricorrere ugualmente alla somministrazione dei farmaci antivirali nei primi giorni dell'infezione. Gli studi sono tutti a favore, abbiamo un'arma anti-covid molto efficace, sono gli antivirali, in grado di abbreviare il decorso della malattia e mettere totalmente al riparo i soggetti fragili che dovessero ammalarsi dal rischio di doversi ricoverare. Insomma abbiamo uno scudo totale, ma l'Italia non sembra volersene avvantaggiare per fatalismo, per il mancato collegamento tra medici di famiglia e specialisti o semplicemente perché manca la consapevolezza di questa opportunità, a cui molte persone non dovrebbero proprio rinunciare. Uno dei massimi esperti, il primo ad aver accumulato una grande esperienza con gli antivirali, il professor Matteo Bassetti, a Genova ha creato una rete informativa H24 tra ospedale e medici di medicina generale. I risultati si vedono. Ma a chi va prescritto entro cinque giorni l'antivirale? Se parliamo di persone anziane, persone con più di 65-70 anni o persone sotto i 65-70 anni con dei propri di salute per esempio che fanno il cortisone, persone che hanno gravi bronchiti croniche, asmatici o persone obese, diabetici scompensati. In queste persone è indicato l'antivirale. Cioè è indicato il monopiravir che è appunto un antivirale che aiuta a replicare in maniera diversa il virus. Cosa fa? Fa sì che nascano dei nuovi virus che però non sono in grado di farci male. Lei preferisce monopiravir perché ha meno interazioni con altri farmaci che il paziente prende abitualmente? Monopiravir ha il vantaggio rispetto all'altro antivirale di non avere nessun tipo di interazione e quindi di poter essere somministrato insieme ai farmaci che normalmente si prendono senza avere in qualche modo dei problemi ulteriori. Qual è allora il messaggio? Prima inizi meglio è. Secondo messaggio, meno del 5% dei nostri pazienti trattati va in ospedale e praticamente nessuno di quelli che fa il monopiravir muore. Quindi insomma mi pare che ci siano dei messaggi importanti. Il farmaco funziona, prima tu lo dai, meglio è. Quindi il messaggio che voglio dare a chi deciderà di utilizzarlo è creare dei modelli virtuosi di collaborazione tra la medicina del territorio e l'ospedale. Diversamente è molto difficile riuscire a utilizzare appropriatamente questi farmaci. È tutto, arrivederci.